Ogni commento sarebbe superfluo, è la storia di uno, ma è la storia di tanti, perché anche a Palma abbiamo avuto di queste storie. Introduciamo il primo brano con cui la banda apre questa sera il concerto. È stato composto da Ivo Kowenhoven, giovane compositore olandese appassionato fin da piccolo alla musica per banda. Le sue composizioni sono tra le più indicate ad aprire con potenza i concerti per banda. Fanfare prelude di Ivo Kowenhoven dirige il maestro Giuseppe Vitello. Grazie. 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 minuti